Di lei non si hanno più notizie dal 18 novembre dello scorso anno, da quando cioè è stata rapita in Kenya, in circostanze ancora tutte da chiarire. Oggi Silvia Romano compie 24 anni, il papà, non potendo comunicare con lei, ha affidato ad un commovente post su Facebook gli auguri a sua figlia. È il secondo compleanno, ricorda, che vivi laggiù. L'anno scorso festeggiavi con i tuoi amati bambini, quella torta con le scintille, piene di gioia e sorrisi bianchi più che mai intorno a te e tu, sorridente e felice di essere là. La famiglia della cooperante milanese non ha perso mai la speranza. In questi lunghi mesi di assenza di Silvia Romano, si sono inseguite notizie circa presunte richieste di riscatto e di passaggi tra diverse bande di rapitori. Indiscrezioni contraddittorie e forse montate ad arte per depistare gli investigatori. Questo compleanno è diverso, scrive ancora il papà di Silvia Romano su Facebook, ma posso regalarti dolci pensieri, trasmetterti forza ed energia dal profondo di un cuore che soffre, ma che non ha mai smesso di credere che tornerai tra le nostre braccia. Sei una grande, papà tuo. Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, oggi ha ricordato il compleanno della giovane Silvia Romano. Tanti auguri Silvia, ha scritto Sala su Twitter. Milano ti aspetta.